Con i figati potrei fare il braccio, muoviti, creando delle forme ben precise che le riprendono dallo studio di braccio. In questo caso la formizzazione non è tanto la forma estetica, ma è la sensazione interiore del corpo che si deve sviluppare. Quindi può uscire fuori qualsiasi cosa, ma penso che questa sia una cosa molto vera e reale che può far esplorare nuovi movimenti, nuove sensazioni e qualità. Per esempio, io posso iniziare semplicemente in parallelo.